Come si tratta di mettere la faccia in una campagna di sensibilizzazione contro lo sfruttamento sessuale dei minori era doveroso da parte dell'arte da basket che si occupa di tanti ragazzi e crede che lo sport possa veicolare messaggi che abbiano un valore oltre lo sport stesso per diventare veicolo di socialità, di comunità e di stare insieme. Quindi abbiamo accolto ben volentieri l'appello e la richiesta che ci ha fatto l'associazione 3M&B per metterci, come si può dire, la faccia in questa campagna di sensibilizzazione. Il Brasile è un paese ricco ma c'è anche una povertà diffusa. La maggior parte dei poveri si concentra nelle grandi città della costa. E' un fenomeno perverso che è conseguenza di questa miseria e che moltissimi bambini e bambine si prostituiscono ai turisti stranieri per pochi euro. Questa campagna è molto importante soprattutto ora che stanno per cominciare i mondiali di calcio, per sensibilizzare le famiglie povere del Brasile e i 500.000 turisti stranieri che si stima verranno in Brasile per seguire i mondiali, la maggior parte dei quali dall'Europa e per il 90% uomini. Questa campagna, condotta sia in Brasile sia in Europa, punta a informare e sensibilizzare contro il crimine orrendo che è lo sfruttamento sessuale dei minori.